Questa è la forma che assume spontaneamente l'olivo in assenza di podatura. Vedete, è una forma a cupola, produttiva nella zona esterna e che, come diceva Morettini, non impedisce all'olivo di produrre, ma complica soltanto la raccolta dei frutti. A quell'altezza è praticamente impossibile raccogliere i frutti, quindi si pota per raccogliere meglio e non per far produrre la pianta. La potatura dell'olivo è la seconda operazione culturale più costosa dopo la raccolta e spesso ai costi diretti di esecuzione si aggiungono i costi indiretti per operazioni eseguite male, che comportano la correzione con costosi interventi e che comportano anche la perdita di una parte del potenziale produttivo. Quindi dobbiamo razionalizzare questa pratica costruendo delle piante che siano adatte alle esigenze del sistema di raccolta prescelto. Comunque la potatura ha delle esigenze inderogabili da rispettare, che sono quelle dell'olivo e quelle del produttore di olive. Il produttore di olive desidera produrre olio di qualità in quantità elevata, riducendo il più possibile i costi. La pianta che cosa desidera invece? La pianta desidera luce. L'olivo è una pianta nata ai margini di un deserto che consuma luce più di ogni altra specie, una specie sempre verde, quindi la sua chioma lavora sempre in continuazione anche quando noi la vediamo in riposo. La luce è indispensabile e la pianta se la va a cercare con ogni mezzo ed è per questo che spesso tende a scappare verso l'alto perché in alto trova le migliori condizioni di contatto con l'ambiente perché in alto è più soleggiato, è più ventilato, è più salubre perché c'è anche minore umidità atmosferica. Poi la pianta desidera dimensionare la sua chioma sul potenziale dell'apparato radicale, cioè c'è un famoso rapporto che si chiama rapporto chioma-radici che presuppone che la chioma diventa grande tanto quanto è grande l'apparato radicale. E modifiche sostanziali di questo rapporto comportano una risposta della pianta che tenta con ogni mezzo di ritornare alle dimensioni che desidera. Quindi è necessario rispettare il rapporto chioma-radici. Si comprende quindi anche quanto sono sbagliati gli interventi di potatura eseguiti solamente con l'unico scopo di tagliare le parti di pianta che cedono determinate dimensioni così come a volte chiede il produttore. Poi non ci dobbiamo dimenticare le peculiari caratteristiche produttive dell'olivo uniche nel mondo delle piante arboree che comporta il fatto che l'olivo produce solo ed esclusivamente sui rami fatti l'anno precedente. E che l'olivo, appunto perché ha la capacità autonoma di produrre frutti tutti gli anni, l'olivo se è messo in condizione di farlo produce le olive ma produce anche i nuovi rami che serviranno per il prodotto dell'anno successivo. E questo si può vedere bene anche in questa pianta dove vedete che le olive sono concentrate in questa zona altri rami sono pronti per produrre l'anno prossimo altri rami ancora sono pronti per produrre tra due o tre anni ancora. Quindi la pianta si sta preparando autonomamente a produrre olive costantemente. Noi dobbiamo soltanto creare le condizioni agronomiche per cui tutto questo possa avvenire senza interruzioni cioè intervenire anche con tutti gli altri fattori produttivi che sono la gestione del terreno, la concimazione e la difesa fitosanitaria per consentire che questo percorso possa procedere autonomamente. Si comprende quindi il ruolo del potatore che è colui che deve innanzitutto conoscere le esigenze delle due parti e che deve avere la capacità di raccordare l'una con l'altra. Il potatore è una persona che deve avere delle basi di conoscenze sulla fisiologia degli alberi deve conoscere il comportamento vegetativo e produttivo dell'olivo deve poter raccordare le due esigenze quindi è una persona che deve avere un sufficiente grado di formazione deve essere una persona preparata e non una semplice persona che sa usare degli attrezzi con cui tagliare i rami. Gli studi sulla potatura iniziarono in Italia già a fine del 1800. L'Italia è il paese al mondo che ha prodotto maggior numero di ricerche sull'argomento la prima proposta di potature di allevamento dell'olivo fu fatta dal Caruso nel 1883 con il vaso dicotomico vaso perché appunto si voleva favorire l'ingresso della luce dall'esterno ma anche dall'interno rendere più funzionale la chioma vaso dicotomico perché si favoriva una chioma costruita sulle esigenze degli operatori dell'epoca che erano numerosi ed usavano le scale quindi si favoriva la divisione della struttura scheletica in due parti di pari potenzialità appunto per favorire l'appoggiata della scala in tutto l'arco dei 360 gradi il risultato è che nel giro di pochi anni la pianta fuggiva in alto diventava problematico raccogliere le olive ma anche governare la pianta a questa altezza e periodicamente si praticava la stroncatura cioè la pianta veniva dimezzata con dei grossi tagli di cui non ci si formalizzava molto perché all'epoca l'olivo era anche una pianta da energia, da legna per le famiglie contadine che dovevano pur passare l'inverno ma la cosa fu affrontata in maniera più razionale da altri ricercatori di nome Roventini, Tonini negli anni 20-30 che appunto proposero una nuova forma di allevamento dove le divisioni dicotomiche erano abolite e si favoriva invece lo sviluppo in altezza della struttura scheletrica ridotta al minimo indispensabile che consentiva all'olivo di fare molti frutti nella zona medio-bassa di chioma e non nella zona medio-alta come avveniva con la precedente forma questa proposta fu talmente condivisa che tutte le strutture di divulgazione agricola che all'epoca facevano riferimento al Ministero dell'Agricoltura c'erano gli ispettorali terrari ecco adottarono questa forma e la proposero agli olivicoltori con risultati molto interessanti dal punto di vista produttivo tutto questo ebbe un seguito fino al 1956 quando siamo nel dopoguerra quindi c'era già uno spopolamento delle campagne per via dell'industrializzazione ma ci fu anche una gelata che impose grossi interventi di ristrutturazione alla locale olivicoltura ecco purtroppo in corrispondenza di questo periodo si interruppe il percorso formativo così ottimamente avviato in precedenza perché ci furono poi anche delle riforme nel settore della divulgazione le competenze passarono ad altri ed il percorso si è interrotto ma subentrarono nuove proposte di allevamento e potatura dell'olivo che si chiamano con un termine generico forme che consentivano l'intensificazione culturale si comincia a parlare di olivo allevato a palmetta di olivo allevato ad ipsilon di olivo allevato a monocono ora si parla di oliveti super intensivi con il risultato che spesso si sono ottenuti più problemi che altro allora come si risolvono i problemi di redditività dell'attuale olivicoltura si possono alleviare non dico risolvere adottando la meccanizzazione delle principali operazioni culturali meccanizzazione della raccolta innanzitutto che è l'operazione più costosa e secondariamente anche della potatura come si meccanizza la raccolta? essenzialmente con due sistemi non parliamo di raccolta manuale per evidenti ragioni è molto costosa e non si trovano le persone primo passaggio che si può fare è quello della meccanizzazione con agevolatori con pettini pneumatici o elettrici che presuppongono un operatore che da terra esplora la chioma con queste attrezzature e di conseguenza la chioma non dovrebbe superare l'altezza consentita da questa attrezzatura quindi non più di 4,5-5 metri lo scuotitore invece è una macchina che aggancia il tronco e trasmette delle vibrazioni come un cono dove la punta sta nel punto di aggancio quindi la base che sta in alto gode di sollecitazioni molto forti e in alto lo scuotitore coglie bene molto bene meglio che in basso quindi possiamo concludere che per la raccolta agevolata possiamo costruire una pianta più bassa e più larga e con la raccolta meccanica possiamo costruire una pianta più stretta e più alta senza modificare il risultato volumetrico della chioma perché se no andiamo ad interferire con il famoso rapporto chioma-radici allora il discorso si sposta sulla potatura a questo punto abbiamo detto potatura meccanizzata e meccanizzata su che cosa? su una pianta allevata a vaso poligonico perché a nostro avviso è la struttura che consente meglio di ogni altro il rispetto delle esigenze dell'olivo e di rispetto delle esigenze del produttore perché? perché eccolo qua perché la struttura scheletrica è ridotta al minimo indispensabile svolge soltanto il ruolo di sostegno delle strutture secondarie destinate alla produzione consente alla pianta di esplorare gli spazi che desidera ma la pianta lo fa soltanto con un limitato numero di strutture e non con tutte quelle che la pianta vorrebbe utilizzare quindi conseguiamo il duplice obiettivo di conservare l'equilibrio chioma-radici e conserviamo anche la possibilità di concentrare il prodotto nella zona medio-bassa di chioma quindi dove si può raccogliere meglio con qualsiasi sistema di raccolta l'unica differenza è che questo vaso poligonico lo faremo basso e largo se decidiamo di cogliere con i pettini o lo faremo stretto ed alto se decidiamo di cogliere con lo scuotitore torno a ripetere senza modificare il risultato del volume dell'albero su questa struttura così semplificata gli interventi di potatura possono essere eseguiti da terra semplicemente dotandosi di attrezzatura molto economica questa è l'attrezzatura minima con cui poter eseguire la potatura rinunciando all'uso delle scale quindi guadagniamo in sicurezza, in economia e in fatica utilizzando queste attrezzature dotate di prolunga telescopica fino a 4 metri e con la quale possiamo arrivare fino ai 5 metri, 5 metri e mezzo che necessitano per ogni sistema di raccolta gli interventi su queste 4 strutture, 4-5 strutture portanti sono limitati all'eliminazione dei succhioni che insorgono nella zona interna ma non totalmente, soltanto quelli più grandi e più verticali al governo delle cime quando queste diventeranno troppo folte, troppo ricche di vegetazione e a un eventuale lavoro di sfoltimento della chioma nella zona medio-bassa quando necessario questo consente agli operatori di lavorare sulla pianta con tempi predefiniti io consiglio di non superare i 10 minuti a pianta perché sono sufficienti per ogni tipologia di pianta piccolo o grande che sia quindi tempo massimo di permanenza 10 minuti a pianta e questo consente anche all'albero di esprimere tutto il suo potenziale produttivo nella zona medio-bassa di chioma perché è ricchissimo di vegetazione secondaria sulla quale non è necessario intervenire perché come vi ho già detto l'olivo sa fare da solo i frutti perché sa fruttificare e sa rinnovarsi per l'anno dopo e per i 2-3 anni successivi queste sono delle giovani piante pronte per la piantagione questa deve avvenire su un terreno squadrato dove i tutori sono già stati posizionati e deve avvenire con un collocamento del pane di terra ad una profondità di poco superiore a quella che attualmente l'apparato radicale occupa in vaso non più di 2-3 centimetri altrimenti l'apparato radicale potrebbe soffrire per problemi di eccesso di profondità rispetto a quella attuale su questa pianta già all'atto della piantagione è necessario fare degli interventi di potatura a quale scopo? primo, evidenziare un tronco di almeno un metro per preparare la pianta ad ogni sistema di raccolta secondo, per evitare che altre strutture duplichino quello che già esiste per esempio questo è un pollone nato dal colletto della pianta che deve essere eliminato perché l'olivo, che è una pianta basitona molto facilmente investe molte risorse in questa struttura e nell'arco di 1-2 anni va a fare concorrenza fino a sostituire la struttura che vediamo davanti altro punto in cui bisogna intervenire è questo dove la pianta si divide in due questo avviene ad un'altezza inferiore al metro quindi è necessario che alziamo ulteriormente il livello del tronco eliminando una delle due strutture e legando al tutore in questo caso è la canna ma dovrebbe essere il palo in campo legando al tutore questa parte residua per verticalizzarla in modo tale che noi possiamo sfruttare da questo momento in poi la vegetazione che verrà da tutti questi germogli che sono a questa altezza altro non dobbiamo tagliare perché queste strutture non sono competitive con la struttura principale sono invece portatrici di foglie le quali fanno fotosintesi e che contribuiscono ad una rapida crescita dell'albero quindi già dalla fase di piantagione dobbiamo indirizzare l'albero nella direzione giusta lo stesso accade in questa seconda tipologia di pianta dove ci sono due divisioni dicotomiche una a questa altezza ed una a quest'altra altezza che dobbiamo eliminare per concentrare la crescita soltanto in questa struttura che deve far sviluppare la chioma a partire da questa altezza siamo oltre il metro ci sono vari germogli in tutte le direzioni questo sarà il punto di partenza della futura chioma dobbiamo continuare anche a questo livello perché questi rami sono abbastanza competitivi questo forse di meno possiamo provare a lasciarlo per sfruttare la presenza delle foglie anche questa pianta ha bisogno di interventi perché qui ci sono una divisione dicotomica due divisioni dicotomiche il resto non è così vigoroso come il precedente vedete è vegetazione quasi orizzontale non è competitiva ma porta foglie che contribuiscono ad una maggiore crescita della pianta il punto in cui andremo ad impalcare l'albero è questo vedete ci sono rami in tutte le direzioni e su questi lavoreremo negli anni successivi per confermare queste scelte che ora sono soltanto a livello di indirizzo questa è una pianta dove invece non c'è bisogno di fare nulla perché il tronco è bello evidente i rami sono disposti in tutte le direzioni dobbiamo soltanto aspettare che le foglie, la fotosintesi facciano il loro lavoro producono rami ecco su questa nuova produzione di rami sceglieremo quelli tre o quattro meglio disposti nello spazio in termini di distanza reciproca in termini di equilibrio nello sviluppo spaziale questo è un olivo un anno dopo la piantagione legato correttamente al palo fino al punto in cui si comincia a intravedere un'impalcatura e la pianta si sta conformando in un modo errato perché noi dobbiamo costruire un vaso vuoto internamente con delle strutture dirette verso l'esterno obliquamente e ben separate fra di loro in modo equidistante il problema è che questo germoglio qua se ne sta andando troppo in alto inutilmente quando invece per noi per le nostre esigenze andrebbero bene già tutte queste strutture che già sono disponibili qui sotto quindi intervento importante bisogna eliminare totalmente questo ramo per concentrare la futura crescita tutte nelle strutture solo nelle strutture che ci interessa ecco qua a questo punto vedete residono rami un po' in tutte le direzioni a discussione di questo forse che ancora si presenta un po' troppo verticale abbiamo tre o quattro rami in tutte le direzioni sui quali continueremo a intervenire negli anni successivi sempre per indirizzare la crescita obliquamente verso l'esterno in maniera equilibrata così come abbiamo fatto adesso quindi se qualcuno nel futuro prenderà il sopravvento dobbiamo frenarlo e se qualcuno resterà indietro dobbiamo aiutarlo con opportuni interventi questo è un olivo al secondo o terzo anno dopo la piantagione dove la situazione strutturale incomincia a consolidarsi il tronco è bello evidente alto il metro che desideriamo il problema è che c'è questa struttura centrale che è dominante su tutto il resto e il nostro vaso in presenza di questo risulterebbe compromesso perché questa struttura per il suo diametro e per la sua posizione riuscirebbe ad attrarre molta linfa a discapito delle strutture che ci interessano quindi non resta altro che asportarla per favorire l'ingresso della linfa nelle strutture laterali che ci interessano per costruire il vaso policonico quindi è necessario intervenire in corrispondenza dell'ultimo ramo utile per costruire il vaso policonico che è questo che vediamo in questa posizione perché è l'unico che va in questa direzione quindi lo dobbiamo salvaguardare altri rami li abbiamo che vanno in tutte le direzioni e di questo centrale possiamo tranquillamente farne a meno ora vedete la vegetazione è molto più aperta ed equilibrata rispetto a prima possiamo completare l'opera magari per cercare di frenare questa crescita così rapida verso l'alto altrimenti ci troveremo nella stessa precedente situazione quindi non resta altro che fare questo intervento vedete adesso la pianta è più equilibrata con pari opportunità in tutte le direzioni si faranno interventi correttivi sempre meno importanti sempre meno invasivi per l'albero il prossimo anno cercando di confermare questi che sono degli indirizzi ormai quasi definitivi perché abbiamo un tronco abbiamo le quattro branche equidistanti fra di loro a 90 gradi si tratta soltanto di lavorare sulle punte di questi quattro percorsi per indicare la via che la pianta deve seguire nel suo sviluppo verso l'alto quindi non negare lo sviluppo ma guidare uno sviluppo nel modo più consono alle esigenze dell'olivo e alle esigenze dell'olivicoltore la potatura del vaso policonico inizia dai succhioni che sono le strutture che la pianta utilizza per tentare di portarsi in alto maggiormente di quello che gli abbiamo consentito quindi cominciamo con l'eliminare solo quelli più grandi e più verticali di maggior diametro e più verticali perché sono quelli che più degli altri compromettono lo sviluppo della restante parte di chioma i polloni i succhioni più piccolini possono restare perché nell'immediato non rappresentano un problema anzi sono una risorsa perché contribuiscono a mantenere vitale il dorso della branca che altrimenti a lungo andare potrebbe essere devitalizzato ecco fatto poi una volta eliminati i succhioni si passa subito a lavorare sulla cima per isolare un unico percorso consentito alla pianta per la sua espansione quindi questa è la nostra cima che vediamo qua su in alto qui c'è un duplicato di cima perché da questa struttura la pianta ha dei germogli che utilizza per andare in alto e dobbiamo eliminarli poi si va sulla cima a cercare di individuare sempre un solo percorso e sempre diretto obliquamente verso l'esterno quindi questo è un duplicato della nostra cima e vedete che è emerso finalmente quell'unico percorso consentito alla pianta per portarsi in alto qui possiamo eliminare anche questo germoglio perché comunque è un po' ingombrante in alto ed ostacola l'ingresso della luce e possiamo dire che questa struttura è a posto così come la vediamo adesso potatura molto rapida ed incisiva lo stesso discorso lo replichiamo su quest'altra branca dove ci interessa favorire lo sviluppo di questa struttura e siccome qui c'è una divisione dicotomica di pari diametro quindi di pari opportunità la dobbiamo togliere per concentrare la crescita solo sulla zona che ci interessa sempre prima di andarsene guardare l'albero se si vede la struttura scheletrica se voi non vedete la struttura scheletrica vuol dire che avete potato bene perché in alto lo scheletrica non c'è perché la pianta è di struttura sottile povera in basso il legno di grosse dimensioni c'è ma è coperto da tutta la fronda che è destinata a fare produzione ecco se voi al contrario prima di andarvene vedete grosse quantità di legno vuol dire che non avete potato bene questa è una pianta di 20 anni circa correttamente allevata a vaso policonico possiamo vedere il tronco che dovrebbe essere di un metro d'altezza anche se qui è di altezza inferiore c'è l'impalcatura cioè il punto da cui dipartono le branche primarie che hanno soltanto una funzione di sostegno delle branche secondarie che sono quelle che dipartono dalla struttura primaria una buona branca secondaria deve avere il diametro che non deve superare la metà di quello della branca primaria questo consente anche alla branca secondaria di attingere una minore quantità di linfa e quindi di indirizzarla maggiormente verso la produzione questo consente alla pianta di governare facilmente da sola la struttura secondaria che vedete c'è la parte destinata alla produzione c'è la parte destinata alla produzione dell'anno successivo e ci sono anche altri germogli che sono destinati via via a sostituire i primi che vanno progressivamente esaurendosi c'è un rapporto chioma-radici perfettamente rispettato perché la pianta è alta tanto quanto desidera ma sono rispettate anche le esigenze del produttore perché in alto dove pota e raccoglie con difficoltà la pianta resta soltanto con l'apice di questi coni apposta si chiama vaso policonico perché è una forma costruita da 3, 4, 5 coni saldati nella metà inferiore e separati nella metà superiore questa è è una pianta potata in maniera tradizionale costruita per soddisfare le esigenze degli operatori con le scale infatti è ricca di dicotomie dove è agevole posizionare la scala e essere in sicurezza il problema di questo modello di potatura è che così facendo la pianta gode di una gran quantità di linfa in alto perché sono molte le vie che la portano su e si afferma la parte superiore dell'albero a discapito di quella inferiore andiamo in direzione opposta alle attuali esigenze che invece prevedono di concentrare la produzione nella zona medio-bassa dove si raccoglie meglio quindi gli interventi da fare in questo caso sono di semplificazione della chioma per consentire una maggior quantità di luce nella zona medio-bassa di chioma ma anche per consentire una maggior disponibilità di risorse togliendo tutti quei concorrenti che dall'alto attraggono linfa in maniera privilegiata quindi si interviene riducendo il numero delle strutture scheletiche che arrivano in alto si interviene lavorando sull'inclinazione delle strutture residue perché questo rallenta la velocità di afflusso di linfa e quindi limita la crescita in alto terzo si interviene sul diametro delle strutture perché la chioma deve restare all'altezza che la pianta desidera ma ci deve restare con poche strutture inclinate e di piccolo diametro questo conserva inalterato il rapporto chioma-radici ma consente alla parte medio-bassa di chioma di affermarsi e quindi di soddisfare le esigenze degli operatori senza contrariare le esigenze dell'albero incominciamo col togliere questo ramo perché è capace di attrarre molta linfa ma è anche capace di fare molta ombra nella zona sottostante anche questo che è destinato a fare lo stesso lavoro ora abbiamo tolto tutte le sorgenti di ombra di questa struttura primaria sulla struttura secondaria sottostante sì quello che dicevamo prima quello che abbiamo fatto è un intervento straordinario di semplificazione dell'albero che non bisognerà fare mai più bisognerà fare invece delle operazioni di manutenzione ordinaria che consistono nell'evitare che si creino nuovamente le condizioni che abbiamo appena risolto tutto questo va fatto annualmente eliminando i succhioni che insorgono nella porzione interna di chioma tipo questa ad esclusione di quelli che sono interessanti per sostituire la nostra cima quindi il metodo è sempre questo eliminare soltanto i succhioni più grandi di diametro e più decisamente diretti verso l'alto lasciando invece tutti gli altri ma pronti a sostituirli l'anno successivo da questo nasce l'importanza della potatura annuale da questo momento in poi perché serviranno soltanto pochi tagli di ricordo per gestire una chioma un'esperienza un'esperienza di ricordo un'esperienza in cui un'esperienza internazionale del modello di potatura a vaso policonico su piante secolari, dove l'obiettivo è quello di renderle economiche, cioè produttive e gestibili con costi abbastanza contenuti, ma dove anche l'interesse è quello di conservare l'aspetto monumentale degli alberi, queste piante sono delle icone dell'olio che producono. Vedete che questo modello di potatura consente la conservazione dell'aspetto monumentale dell'albero, ma stimola una ripresa di vigore della zona medio-bassa di Chioma, dove il produttore può cogliere il suo prodotto in maniera più agevole rispetto a quello che accade se la pianta venisse spostata più in alto da interventi di potatura sbagliati. E allora per il futuro l'imperativo è quello di riattivare la formazione degli operatori, quella opera che è stata attiva fino agli anni Sessanta e che poi è stata gradualmente ridotta con il trasferimento delle competenze dallo Stato agli enti locali e alle associazioni. Bisogna che enti locali e le associazioni subentrino in questo ruolo e portino competenze presso gli operatori che così facendo possono recuperare reddito presso le aziende olivicole, in parte riducendo i costi ed in parte esaltando anche il potenziale produttivo degli alberi. In questo i campionati regionali, il campionato nazionale, molte iniziative che vengono intraprese in questa direzione sono assolutamente utili perché sono innanzitutto capaci di attrarre pubblico perché divertenti, ma secondo rappresentano un momento di confronto molto interessante per gli operatori che così possono verificare e fare progressi in un settore che è basilare per il futuro dell'olivicoltura. Certo, si deve lavorare sia in campo riducendo i costi ed aumentando il prodotto, ma anche in ambito commerciale elevando e diversificando e valorizzando la qualità dell'olio. Certo, si deve lavorare sia in campo riducendo i costi edifici, www.feyyaz.tv 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 www.feyyaz.tv